Oh mio Dio, c'è un'altra leggendaria, mi sembra! C'è un'altra leggendaria! Buona a tutti, c'è ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono Talox, ragazzuoli, e finalmente oggi siamo tornati in un nuovissimo video con Papa Talox, ragazzi! Oggi siamo qui per aprirci la bellezza di due bauli leggendari sul mio profilo e se non troveremo delle leggendarie tanto forti, ne apriremo anche uno dei vostri. Soprattutto rispondete alla domanda e vi farò a fine video per essere salutati appunto in un prossimo video. Vado a salutare Fabio Chiarino, che è stato proprio uno dei primi a commentare, e XNassim. Se anche voi volete commentare il prima possibile, attivate la campanellina così vi arriva subito la notifica, vedete tutto il video, rispondete alla domanda e essere salutati nel video di domani. Ma ora io direi, vanda alle ciance! Sei pronto per arrivare questi due bauli leggendari? Prontissimo, eccomi! Apriamo prima questi qua bauli più piccoli che non valgono niente. Dobbiamo cercate di trovare tutte, tranne la prima e l'ultima, che sono le peggiori. Sei pronto? Vai! Attenzione! Parte il bauli leggendario! Scintilla ancora! Già ce l'avevo! Già ce l'avevo, signori, vabbè! La possiamo portare al livello 2, non è male, però preferivo un'altra leggendaria. Vabbè, signori, dai! Ci possiamo accontentare! Ma vorrei dire che sia il momento di andarci a scioppare il pacchetto dei bauli super magici. Vai! Clicca! È partito il baule, vediamo un po' se è riuscito l'acquisto. Perfetto, l'acquisto è riuscito. Parte il baule. Prima carta, 3000 di oro. Vai! Seconda carta, fornace. Terza carta, 41 calen del ghiaccio che sono veramente molto utili. 60 sfere infuocate. Vai! 3 spiriti del ghiaccio. No, 400 spiriti del ghiaccio. Scusate! Sei becca! Oh mio Dio, c'è un'altra leggendaria, mi sembra. C'è un'altra leggendaria. Cioè, siamo pronti. Abbiamo trovato un'altra leggendaria, signori. Voglio minimo 8000 mi piace. Sei pronto? Vai! Leggendaria, amigliatore! Mi serviva! Abbiamo trovato la leggendaria del baule, questo qui, che non ci si trovano. Grande baule, leggendaria. E andiamo. E adesso abbiamo un altro baule leggendario. da aprirci, ragazzuoli. Dopo l'epic sculata che ci abbiamo avuto, è il momento. Vai! Shop a quest'altro baule leggendario. Premi su 500. Premi su 500. Prossimo baule. Il tronco, il tronco. Va bene, dai. Non era quella che dovevamo molto trovare. Comunque sì, abbiamo trovato un'altra leggendaria che è il minatore, ragazzi, che mi piace davvero tantissimo come carta. E possiamo dire, finalmente, che adesso pure io ho le leggendarie. Ecco qui il tronco e di qua ci dovrebbe essere il minatore. Dov'è? Dov'è il minatore che abbiamo appena trovato? Eccolo qui, il nostro bel minatore, ragazzuoli. Che dire, Mabatalox? Oggi sei stato davvero, davvero sculato al massimo. Benissimo. Siamo solo per a tre minuti di registrazione. Dobbiamo fare qualcos'altro. Io direi di andarci a fare adesso una partitella. Vabbè, Mabatalox, puoi pure uscire di scena perché adesso vado a provare le nuove carte, ragazzi, in live con voi. Ovviamente continuate a seguire il video perché ci sarà presto la domanda finale. Io andrei subito di combo, Hog Rider, Goblin e dietro metterai subito il tronco. Aspettando ovviamente che il nostro avvezzato ci mette qualcosa, ma in realtà non ci mette niente. Quindi vai domatore, fai più danni che puoi. Let's go. Bravissimo. Già che abbiamo levato mezza torre, non è male come cosa. Allora, anche lui mi mette il minatore. Ok, io direi di difenderci così. Vai con gli arcieri. Però, porca miseria, ho sprecato il mini pecca praticamente. Vai arcieri, fate fuori tutti i goblin. Perfetto così. Direi di difenderci con gli arcieri tattici. Mamma mia, signori. Ma-ma-mia. Dai. Di nuovo di Hog Rider. Prepariamoci il tronchetto anche se non dovrebbe servire in teoria. Perfetto, va bene così. Hog Rider. Spacca la prima torre. Andiamo così. Incredibile, eccezionale proprio lui. Vabbè, qui direi di prenderci i danni della Valkyria perché andrì possiamo fare ben poco. Dai, dai, butta giù tutto. Butta giù tutto, butta giù tutto, butta giù tutto. Allora, qua direi di andare. Di Fireball, ok, che ha preso, penso tutti abbia preso. Mini pecca per distrarre il coso che intanto ci ha tirato giù un'altra torre praticamente. Allora. Così, vai di Hog Rider. Oh, ho messo malissimo il tronco ragazzi. L'ho messo veramente, veramente male. Ho combinato un macello. Perché qua mi tira giù la torre? Eh, signori, ho sbagliato io purtroppo. Mi tira giù pure l'altra torre in questo momento. Andiamo di frecce. Dai, 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 dai. Ho fatto due cavolate nel giro di un secondo che mi sono costati la vittoria, signori. Comunque sia, ragazzuoli. Abbiamo perso sfigatamente perché non avevo innanzitutto un mazzo decente. Poi ho sbagliato due mosse. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 8000 like. Vi porto il cesto opening con mio nonno. Io spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Lascia un like, un commento e iscrivetevi se ancora l'hai fatto. Come sempre, qui da Dalox è tutto. Tintalox di... Di Fered, bla, ragazzi.